Non so se riesco. Jacopo, poche settimane fa eri a Modena per seguire i campionati universitari, ora ti ritrovi qui con la maglia di Modena nella squadra che deve difendere i tre titoli conquistati nella scorsa stagione. Sicuramente sono molto emozionato perché entrare in questo palazzetto è la storia della pallavolo, quindi è un'emozione grandissima, un onore e penso anche soprattutto una grande responsabilità vestire questa maglia ancora di più dopo l'annata dell'anno scorso. Entri in un gruppo se possibile addirittura rinforzato rispetto a quello che ha vinto tre trofei su quattro allo scorso anno? Sì, penso che sia stata fatta una squadra molto equilibrata e penso che abbiamo delle buone caratteristiche, magari anche diverse dall'anno scorso, quindi no. Però penso che ci sia, dire un buon gruppo è presto, però penso che ci siano delle ottime basi per fare bene, questo ne sono sicuro. Quattro trofei da rincorrere, se tu ne dovessi scegliere uno, quale sceglieresti? Più che uno, direi che sarebbe bello arrivare in tutti i trofei per giocarsela, quindi arrivare come vuole essere una finale, la Final 4 di Champions League e la finale di Coppa Italia. Questo penso che sia l'obiettivo per noi che giochiamo con una maglia come Modena. Avrete un lungo periodo di lavoro senza partite ufficiali e senza buona parte dei titolari, come te lo aspetti questo periodo? Penso che sarà un inizio con tanto lavoro tecnico, come è stato, come questo ci è stato detto dal coach, e del gran lavoro fisico per arrivare pronti, visto che i compagni di squadra arriveranno dalle Olimpiadi, quindi dovremmo arrivare pronti per cominciare subito la stagione nel migliore dei modi, visto che abbiamo la Supercoppa dopo poco. Come è stata la tua esperienza all'estero e come è tornata in Italia? Sicuramente l'esperienza è stata positiva, tutte le annate non vanno uguali, non sono uguali, quindi quest'anno ho avuto un po' più di problemi verso fine stagione per un infortunio, però è stata un'annata sicuramente positiva anche dal punto di vista umano per l'esperienza che ho vissuto in una squadra all'estero che per noi italiani è sempre un po' difficile emigrare, mentalmente soprattutto. Ti vai inserire in un riparto fortissimo, anche numericamente importante, quanto spazio vuoi ritagliarti e quanto ci sarà anche da giocare con tutte le competizioni che Modena affronterà? Sicuramente avere questi giocatori come compagni di squadra è un onore e una possibilità di crescere, anche solo guardandoli, questo mi ricordo quando sono venuto a allenarmi qui l'anno scorso, era una possibilità di guardare, quindi già guardare è una possibilità per migliorare. Io parto pian piano e poi giorno per giorno vedrò lo spazio che riesco a ritagliarmi, quindi ho sempre fatto così in tutti gli anni e cercherò di pian piano ritagliarmi anche qui il mio posto. Quali trovi Piano e Vettori? Sono due i tuoi vecchi amici dai tempi di Piacenza, anche questo magari è inciso sulle tue scelte? Beh, diciamo che sicuramente ha aiutato questa scelta, però ho sempre cercato un po' di non farmi influenzare troppo da queste amicizie che sono molto importanti perché sono come veramente due grandi persone e due grandi amici, però la scelta è stata fatta soprattutto per un'opportunità e un proseguo per il mio percorso e sicuramente avere due amici in squadra è qualcosa di più molto importante.